Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, io sono Stefania. Oggi vi parlo dei croissant ai 5 cereali di Tremarie. Una ricetta esclusiva nata dalla combinazione di 5 cereali, frumento, orzo, segale, avena e riso. L'impasto è arricchito da grano saraceno e racchiude dolci farciture o frutti di bosco. È decorato con zucchero di canna come si nota dalla sua superficie. Nella confezione ci sono 6 cornetti da 55 grammi ognuno. Da cuocere nel forno tradizionale preriscaldato a 170 gradi circa per 20-25 minuti. Ovviamente il tutto può variare da forno a forno. Come vi mostro nel video, io ho provato sia la cottura dei cornetti direttamente congelati, ed è il primo a sinistra dello schermo, sia a decongelare il cornetto per qualche ora prima di passarlo al forno. Ed è il secondo cornetto, quello a destra dello schermo. Procedo alla cottura come previsto. Il mio forno è molto forte, quindi devo necessariamente continuare la cottura coprendo i cornetti. Alla fine il risultato è quello che vedete. A me piace gustarli, con sparsi di zucchero a velo, perché sono perfetti per essere inzuppati nel latte macchiato. Purtroppo ho tagliato male la confezione e di conseguenza non posso elencarvi gli ingredienti. Posso dirvi però, dalla mia esperienza, visto che utilizzo questi cornetti ormai da tanto tempo, che sono davvero buoni, anche se sicuramente conterranno qualche ingrediente che non piacerà a tutti. Dato che utilizzo questi cornetti solo una volta alla settimana, e cioè per le colazioni del sabato o della domenica mattina, uno strappo alla regola della dieta quotidiana, quella settimanale, certamente si può fare. I cornetti sono buoni, hanno un buon sapore, e la confezione da 6 cornetti non costa neanche tantissimo. Infatti io ho pagato questa confezione 2,50 euro circa. Quindi quasi 0,42 per cornetto. Il mio video termina qui. Spero che vi sia piaciuto e se vi è piaciuto lasciatemi tanti pollici in su. Giù nell'info box vi lascio tutti i link ai miei canali social, che trovate anche qui in sovraimpressione, e accanto vi lascio i video precedenti. Ciao e alla prossima!